Il regalo con il quotidiano al centro domani ci sarà questo libro di 64 pagine cocktail che passione 32 ricette classiche e d'autore un omaggio insomma fresco e piacevole anche in tema insomma con l'estate che il quotidiano il centro vuole regalare ai suoi lettori per saperne di più ne parliamo con luigi di fonzo l'idea è nata l'anno scorso grazie devo dire al professor gino berardi che curava la rubrica cocktail che passione nel 1986 appena nato il giornale lui ogni settimana ogni domenica proponeva ai nostri lettori questi questi cocktail da lui diciamo selezionati o inventati l'anno scorso l'abbiamo fatto con l'aiuto del solo professor gino berardi quest'anno abbiamo deciso di allargare ai barman abruzzesi per cui il lettore che in edicola sabato prenderà il quotidiano il centro avrà in omaggio questo libro dove troverà inizialmente una parte dedicata alla storia cosa sono i cocktail come si preparano qual è l'attrezzatura quali sono i bicchieri giusti per fare un bar a casa poi ci saranno delle ricette dei cocktail classici intramontabili dal Negroni al Manhattan e poi ci sono i cocktail d'autori con 20 barman abruzzesi che ci propongono il loro cocktail d'autore ed è un modo anche per conoscere le realtà e le tendenze nuove dei nostri bartender dei ragazzi che lavorano qui in abruzzo ma sono stati a londra si sono formati nella costa pugliese insomma abbiamo veramente delle delle belle realtà domani molti di questi protagonisti insomma che hanno aiutato a curare questo libro cocktail che passione saranno presenti alla manifestazione che ci sarà domani il museo delle genti d'abruzzo a pescara a partire dalle ore 17 ingresso gratuito si potrà assaggiare degustare direttamente alcune di queste ricette insomma che troverete nel libro in regalo domani con il centro quindi l'invito è per tutti i lettori del centro e anche per i telespettatori di rete 8 certo certo questa è una manifestazione nata grazie all'associazione onae l'organizzazione nazionale degli assaggiatori enogastronomici e si terrà al museo delle genti con gli autori dei cocktail che sono stati citati nel libretto ci sono anche diciamo ricordi e omaggi della bcc di altri sponsor e comunque è una manifestazione per come dire ringraziare chi ha dato ai nostri lettori la possibilità di scoprire un mondo veramente fresco e gustoso